bene oggi prepariamo per mezzogiorno un piatto semplicissimo vale a dire spaghetti con cacio e pepe nero fresco normalmente si mette pecorino romano noi siamo in galabia sfruttiamo il nostro formaggio locale molto interessante semplicissimo spaghetti che stanno già per essere levati un rompe lino bene gli spaghetti sono pronti adesso vedete si scolano appena appena non troppo e si mettono direttamente nel nel nostro piatto abbastanza capiente bene adesso si tratta di girarli in questo modo creiamo proprio il calcio volete si può mettere un altro po di acqua un pelino così ok bene gli spaghetti con cacio e pepe nero macinato fresco si presenta così c'è una piccola cremina dentro se ci fate caso ma a leggera bene si può abbinare il tutto con un bel bicchiere di vino un bel calice di vino dannata di quest'anno appena travasato alla prossima occasione da agroprate provincia di cosenza da michele expert per le nostre tradizioni locali anche se in questo caso sono rubacchiato un po dalla lazio quindi è una tipica ricetta romana quindi questa è la piccola crema è stata la piccola crema è stata la piccola crema